Pupi, cacciorro in spagnolo, opera di Jeff Koons del 1992, struttura in acciaio ricoperta di fiori. Davanti al Museo Guggenheim di Bilbao. Jeff Koons, l'ex famosa cicciolina in Italia, dove sta all'arte. Io Shavala, indica, dove sta all'arte in Italia. Di in Italia, a parte, si adoraboto, si vende i campani, nella regione, Carmen. I'ecapita, si vende i campani, sopra. I'ecapita, si vende i campani, a parte, si vende i campani. Grazie a tutti. 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 Forse è il più grande che aveva visto. 4200 kg e 53 persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bus del Getafe è già parcheggiato per domani. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 c'è ancora luce sono le 8 20 minuti alle 9 bellissimo ristorantino bacalao alla viscaina la salsa alla viscaina buono un misto caramelle quarto alle 11 di venerdì sera adesso c'è a dire la verità che sono un po' fuori ma non troppo dal centro e qua c'è più nessuno l'ostello è in Little Africa in pratica devo dire che ho visto parecchie macchine della polizia giusto per grazie a tutti grazie a tutti